Silvano Pisani, sindaco di Bisuschio dal 2009, quali sono oggi le eccellenze e le particolarità di Bisuschio? Le popolazioni di Bisuschio sono notevoli, molto conosciute, anche dei non abitanti della zona. Direi che la popolazione di Bisuschio è una popolazione abbastanza unita, che partecipa anche alla vita del Paese, con le feste, le varie organizzazioni, le varie manifestazioni che vengono fatte. L'amministrazione comunale partecipe e cerca di essere vicina alla popolazione, con gli aiuti che ha fatto, che continua a dare anche alle persone bisognose, quindi nel sociale, e anche con i conoscimenti, anche per quanto riguarda le strutture abitative del Paese. Per esempio, una cosa che abbiamo fatto è cercare di abbellire le strade, facendo i marciapiedi nuovi, eccetera, eccetera, favorendo anche lo sviluppo, per esempio abbiamo messo anche nel campo feste una tettoa che potesse contenere la maggior parte degli abitanti, della popolazione, durante queste feste che vengono fatte in occasione di ricorrenze particolari, feste di alpini, feste sociali, feste a proloco, feste sportive, eccetera, eccetera. Il resto, per quanto riguarda il Paese stesso, è un Paese abbastanza, direi, bello, dal punto di vista anche paesaggistico, e direi che c'è un'attenzione anche adesso, da parte degli abitanti, nel cercare di mantenere pulito questo Paese. Infatti, come Paese, siamo stati inseriti nei Paesi di ciclone, cioè nei Paesi che hanno avuto un riconoscimento per quanto riguarda la raccolta anche differenziata dei rifiuti, per cui grossi problemi dal punto di vista dei rifiuti per il Paese non ce ne sono, è abbastanza pulito, direi.